ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale siamo in un nuovo episodio della serie di red red redemption allora oggi vediamo di fare di fare qualche missione qua nel villaggio allora lo scorso episodio abbiamo cazzeggiato parecchio siamo andati in giro abbiamo fatto danno invece oggi dutch ci ha chiesto di dare una mano a leopold ma insomma parla i'll cut you in all ready you know how it is people is happy to borrow off someone like me but more enthusiastic paying back to someone like you course who are let me see a chick matthews works at guthrie farm he's a hand i believe mister roble the small holder at painted sky runs the operations there bad miss lily millet is a ranch made up at emerald ranch here was me believing dutchess bluster about us helping folk it's legal work mister morgan dattos belong in prison we are doing them a favor i'll make sure they see them in the house ok mette il denaro esamine il documento tutto tutto dove il documento questo libro del debito ok leggi lilly mille lilly millet groble e chick mater ok quindi dobbiamo andare a fare a riscuotere questi debiti vediamo dove sono allora una lì una lì e uno è qui quindi io devo andare da questo che è vicino ed è chick matthews ok quindi prendiamoci il cavallo se ci prendiamo il cavallo perché piedi non mi pare il caso avanti e oggi facciamo un po' di soldi legalmente diciamo sì 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 mi stai morga sto allunando ciao allora saliamo a cavallo e andiamo a vedere il primo il primo dovrebbe essere anche qua in zona quindi questi si prendono i soldi noi gliele prestiamo e poi giustamente non li tornano non è corretto ok quindi il tizio è qua sopra uno dei debitori di destrao si è stato avvisato per l'ultima volta in quest'area per l'ustra l'apertura è riscuotere il debito ok scende allora togliamo questo ce ne freghiamo entriamo qua dentro permesso robel mi doveste dare i soldi affronta mi io Silesia Sì, buono per te Io sono qui per l'economia che ti prendi da un uomo germano Ah, un uomo germano Ehm, mio padre Sprechendo Il kaisereich, sì? Non parlo germano nado Io sono qui per l'economia MONEY Che ti prendi da Leopold Strauss Leopold Strauss Ah, sì Quindi è tempo di pagare O dove è? Non ho niente È un pochino vero Abbiamo tutti un pochino vero O dove è? No No, no, no No, no No, no Mi racco Now, tu ricordi dove stai guardando questo uomo germano? Potrugio un po' di tempo I'lli trovare il pienozzo colpisce minacce un'altra pugna quindi diciamo che si è convinto ok saccheggiamo tutto bella questa allora orecchini d'argento prendi fruga nell'armadietta ok qua non c'è niente fruga sigarette prendi fruga nell'armadietta yes che bastardo e là sotto non c'è niente orologio antico no no non lo faccio deve essere i soldi del debito nella cassetta dei fondi orecchini scuoti un altro debito quindi non possiamo prendere nient'altro va bene dai per questa volta ti lasciamo in bacio ciao bello alla prossima è stato un piacere più per me che per te allora il nostro cavallo allora fatto questo vediamo la mappa dobbiamo andare dall'altra questo già l'abbiamo preso allora o andiamo da questi impostamento ok allora mi sa che dobbiamo darci anche una lavata e soprattutto una sistemata anche al cavallo anche se per adesso sembra tranquillo attenzione qua sento sparare nel frattempo e questo chi è? accetta accetta e dammi un po' di scelta allora mira alle bottiglie ok ok aspetta fammi spostare oh questo l'ho preso ah questo non vale non l'avevo vista quello là sotto eh mi hai fatto ingazzare 10 dollari davanti dai facciamo 10 dollari ma dove sono sti uccelli? ah la sopra eh non mi sembra una gara molto semplice bastardo di un avanti avanti facciamo così uno due dai con questo non ne ho più l'ho più sei fottuto di noi si certo un po' basso sconosciuto mi r Theresa moy buono cosa che devo dare che dobbiamo fare in questo west grazie dei 10 dollari se ce la prende prende carabina ok ci siamo presi e abbiamo fottuto l'arma mi piace allora quindi dicevamo dobbiamo fare rispettare la legge questo è un salto allora diciamo che Arthur è un tipo che se la prende quando perde quindi non lo farei inghazzare se un civile potrebbe avvicinarsi per indicare c'è un testimone aspetta vediamo la mappa testimone andiamo andiamo dal testimone e facciamo che il testimone non ha testimoniato non testimoni non ci sono stato io non ci sono stato io ok fai il rapporto oh guarda io allora asciuga una volta che sei morto una bella fibbia questa si vende allora se non ci sono altri testimoni io andrei dobbiamo stare a presto anche i testimoni per carità allora imposta meta e torniamo a noi cioè non si può nemmeno lavorare tranquillamente puoi parlare alla persona nell'aria per scoprire dove si trova il debitore perfetto qua ce n'è uno conosciuto fai una domanda arrivo quindi è andato da quella parte ok stavolta l'ho beccato abbiamo rischiato di ok abbiamo il lazzo non mi ricordo come si usava ah che cazzo anche la pecore in mezzo alle balle non mi ricordo 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 l'ultima chance di salvare la tua mano stop non mi ricordo non mi ricordo fermati fermati ho sbagliato ho uscito la pistola non volevo cazzo si è spostato l'avevo preso ehi ciccio mi stai facendo girare mezzo mondo devo essere più vicino porca gioia non è così facile ragazzi nel frattempo c'è anche il cavallo stanchissimo abbastanza quindi come la mettiamo mappa del tesoro esamina il documento leggi se dovesse accadermi qualcosa qui sono conservati i miei averi e dove cazzo è aggiungi live è mostrata sulla mappa vediamo dove mi ha fatto arrivare ok quindi qui allora saliamo a cavallo vediamo nel frattempo se lui è stango mi sa di sì aspetta dobbiamo andare con la parte possiamo scendere o rischiamo di morire ok ok fermati usa la mappa del tesoro per aiutarti a identificare per l'uomo questo non abbiamo avuto niente alla mappa bisaccia dentro il buco nell'albero attenzione allora qua c'era un albero grosso eccolo qua che bastardo rispezione debito in denaro ok debito riscosso perfetto e quindi anche questo è fatto ci manca l'ultimo vediamo se vuole un bigoglione che ci deve fare ed è qui allora a questo punto io direi di completare qua possiamo salire qua in mezzo se la fa il cavallo questo cavallo è una bestia ok quindi riprendiamo la strada quindi qua in mezzo ci dovrebbe essere il tizio poi si può parlare alle persone in l'area per scoprire dove si trova il debitore dai non mi fate fare un altro inseguimento allora facciamo così scendiamo da cavallo ma qua le persone stanno qualmente qua c'è qualcuno non mi dice niente allora facciamo poi vince di cavallo ok qua c'è gente e fai una donna con Cooper e chi cazzo è Cooper tu che mi dici ok al negozio si è restretta l'aria e qua non mi dice Ah, fai unda. Eh, va bene, ho i bagai l'Engine waltrò il tuo modo, dai. avanti, si fa botte, vai il pazzo di merda ah vai affanculo e dammi sti soldi mi chiamata, anche a scazzottate mi finisce e dai sti soldi allora? i soldi c'erano a buio, ok frugger debito di villa, perfetto e Lily viene qua, parliamo ma perchè non ti fai i cazzi tuoi? ma guarda che cosa andiamo a cena di corsa da qui forza dai che ce ne scappiamo a casa allora impostiamo casa e possiamo tornare da noi, ragazzi a casa nostra Valentine no, Valentine nella città vicino dove c'è? che usiamo? qui quindi dobbiamo allontanarci merda, li dobbiamo passare anche davanti che quella gente, perchè non si fa i cazzi l'ora? ok, ora sono ricercato a posto sfuggia dal lento uscendo dall'area rossa che di ricerca è segnata dalla radar eh già ce ne siamo andati da un pezzo vabbè vabbè dalla zona siamo usciti quindi ora col tempo lo stato di ricercato scende in diria quindi direi di tornare a casa e andiamo a dare soldi non possono daverti se continuare a sfuggire alle nuove cerchie ok, dai mi sembra giusto allora ci stiamo facendo i chilometri al cavallo la legge non ti sta andando la caccia ma i tuoi primi non saranno dimenticati se verrai avvistato una domenica di una zona rossa diventeranno nuovamente ricercati ok, quindi siamo in quella città siamo ricercati ottimo ok, siamo tornati a casa versa i soldi rispossi nella cassetta dei fondi ok cassetta dei fondi la cassetta dei fondi eccola lì e poi mi sa che ce ne possiamo anche andare a dormire allora cassetta dei fondi dai debiti riscossi riceverai una percentuale di ogni debito riscosso la tua parte è 3,80 debito della tua quota 5,34 ottimo uso il libro contabile per acquistare un miglioramento per l'accampamento libro contabile la prima pagina del libro contabile mostra i recenti contributi versati da tutti i compagni dell'accampamento tutto fatto ecco 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 ciao ciao